Ciao a tutti oggi prepareremo la limonata alle fragole, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa, gli ingredienti sono fragole tagliate a pezzetti, limone pelati a vivo e tagliate a pezzi, zucchero, acqua fredda, menta e ghiaccio, andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le frigole, i limoni e le foglioline di menta ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 10 filtrare la limonata con un colino a maglie strette, versare in una caraffa con i cubetti di ghiaccio, le fragole e pezzetti e qualche fogliolina di menta e servire limonata alle fragole, grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti